Cartier Tortue, stile senza tempo e eleganza iconica. Il Cartier Tortue si erge come uno dei modelli più distintivi e iconici all'interno della collezione Cartier. Il suo nome, che richiama la sagoma di una tartaruga, è un omaggio alla forma unica della cassa. Ecco le sue principali qualità che lo rendono un'opzione straordinaria nel mondo dell'orologeria di lusso. 1. Design iconico. La forma a tartaruga della cassa è la firma distintiva del Cartier Tortue, attirando l'attenzione per la sua originalità e audacia. 2. Materiali di alta qualità. Cartier utilizza materiali pregiati come l'oro, l'acciaio inossidabile e il cuoio di alta qualità, garantendo la durata e l'estetica impeccabile dell'orologio. 3. Movimento svizzero di precisione. Ogni Cartier Tortue è dotato di un movimento svizzero di alta qualità, garanzia di una precisione impeccabile nel tenere il tempo. 4. Versatilità di stile. Nonostante la sua forma unica, il Cartier Tortue si rivela sorprendentemente versatile, adattandosi con eleganza a diverse occasioni, dall'abbigliamento formale a quello più casual. 5. Dettagli di prestigio, numeri romani stilizzati, lancette blu acciaio e una corona ornata da un cabochon di zaffiro, sono dettagli distintivi che riflettono l'attenzione ai dettagli e l'eccellenza di Cartier. Il Cartier Tortue è una vera e propria dichiarazione di design. La sua forma a tartaruga è audace e originale, distinguendolo in modo unico all'interno del panorama degli orologi di lusso. Nonostante la sua forma distintiva, il Cartier Tortue si adatta con disinvoltura a una varietà di contesti. Da ambienti aziendali a eventi eleganti o serate informali, la sua originalità lo rende un punto di interesse e di conversazione, dimostrando la sua versatilità in ogni occasione. In conclusione, l'orologio da polso Cartier Tortue va oltre l'essere semplicemente un accessorio di moda. È un'icona di eleganza, prestigio e originalità. Con il suo design unico, l'utilizzo di materiali fregiati e il movimento svizzero di precisione, il Cartier Tortue rappresenta un investimento di stile che resiste al passare del tempo.